Iuri ha bisogno di me. Devo chiamarla da un punto d'osservazione. E' con noi un ascoltatore di lunga data, l'agente Andrews. Come sempre, la ringrazio per il servizio offerto alla città. Prego. Signor Simpson, come sarà sempre sempre, ho visto Spider-Man in azione. Ha aiutato la polizia a fermare gli uomini di fisca sulle trazze degli ardischi. Insomma, sembra un tipo a posto. Aspetti un attimo, non voglio mettere in dubbio le sue parole, ma non crede che Spider-Man vi abbia aiutato per puro interesse? Ovvero? Aveva una forte ri... Ok, Capitano, sono pronto. Dimmi tutto. Rhino ha saltato il distretto dell'Upper West. Electro è nell'Upper East. Devi intervenire. Uno vale l'altro. Sono entrambi nei guai fino al collo. Peter, hai tempo. Serve aiuto al rifugio Fist, che si trova a nord. Il rifugio per i veterani di Arden. Che succede? Degli evasi di Riker chiedono cibo e provviste. Il personale è barricato all'interno, ma non resisterà a lungo. Io e Miles andiamo ad aiutarli. Non fare nulla prima del mio arrivo, May. Ci vediamo a Darlem. Sia May sembra esausta. Spero di quale più sia una volta. Devo aiutare loro. Puoi andare a Darlem… Grazie a tutti. Yuri, ti avvicino al distretto dell'Aperista. Bene. Electro e i Demoni hanno bloccato i miei uomini. La situazione è delicata. Capirai meglio quando sarai lì. Yuri Watanabe, maestra della Suspense. Si mette male. L'elettricità dei trasformatori impedisce ai poliziotti di uscire. Yuri, la situazione è molto delicata. Per liberare i tuoi uomini dovrò disattivare quei trasformatori. Anche se ci riesci, servirà comunque il tuo aiuto. Sono qui apposta, pronto a risolvere qualsiasi problema elettrico o demoniaco. Cinque trasformatori in tutto. Ricoprendoli di ragnatela dovrebbero soddiscaldarsi. Almeno spesso. Il diavolo sarà riuscito ad appenderlo lì. E non deve essere facile volare con quel peso. Vengono addestrati apposta per evenienze del genere. Oh, troppe domande. Altri quattro di questi appagni. Due sistemati, altri tre. Quando Electro era nel raft, non sentivo la mancanza delle sue diavolerie da supercriminale. Intrappolare dei poliziotti in una rete di trasformatori. Ma come se li inventa? Ok, le restano due. Ok, le restano due. Ok, le restano due. Mi resta solo uno. Ok, le restano due. Ok, le restano due. Eh! Sì. Gli agenti sono liberi, ma i demoni non si arrendono. Devo dare una mano. Gli agenti sono liberi. Gli agenti sono liberi. Gli agenti sono liberi. Novità? Dirigiti all'Upper West Side. Stiamo provando a proteggere i civili, ma Raynon non lo rende facile. Sì, è fatto così. Mi muovo. Un messaggio di Miles. Pete! Ehi, Pete! May mi ha chiesto di chiamarti. La situazione al centro per i veterani non è buona. I detenuti vogliono sfondare le porte. Sono me con Mary Jane e stiamo evacuando l'edificio dal semi-interrato. Ma ci serve una mano? Vieni subito se vuoi, ok? Devo sbrigarmi con i distretti e andare a Darlem. Oddio! Come on, hurry! Come on, hurry! Come on, hurry! Yuri, Rai non in giuga, ma gli ex ospiti di Rai che erano presi d'assalto le barricate della polizia. Credo di aiutarli. Grazie. Se sfondano le barricate, chiede il spazio. Grazie, Spider-Man. Aiuta i colletti delle altre barricate. Non avevo mai visto Rai no tirarsi indietro da un combattimento. Devono essere gli ordini del Dottor Octavius. Brevi attacchi mirati alle squadre di pronto intervento. Grazie. Vai alle altre barricate, serve il tuo aiuto. Sfonderò il cranio all'insetto, poi sfonderò la barricate. Spiderman, stai facendo la scuola. Spiderman in alzo. I detenuti hanno degli RPG. Abbatteranno le difese. Non posso permetterlo. Ci penso aiuto. Primo tetto libero. Spiderman. Dobbiamo prendere l'edificio. Spiderman. 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 detenuti prima di spararmi. I transgressori saranno pacificati. Pacificati? A nessuno sembra di vivere in 1984. Solo a me. Davanti nessuno. La città è stata. A partire da qui. A partire da qui. Piacere di vederti, ragno. Non vedo l'ora di vendicare il mio arresto. Gli evasi di Riker sono serviti. Ora tocca alle scimmie volanti di Seymour. Yuri, distretto sicuro. E ho scoperto cosa significa essere un bersaglio prioritario della Seymour. Non mi piace. Così impari a importunare i mercenari internazionali? In effetti. Ok, ora devo lasciarti. Chiamami se qualcosa va storto. Certo. E grazie. Senza di te non avremmo avuto chance. Ok. Devo correre al rifugio Fist di Harlem per aiutare Zia May. Peter, grazie al cielo. Ci servi al centro per i veterani. Dove sei? Mi hanno trattenuto. Stai bene? Che succede? I detenuti hanno spiccato le fiamme. Abbiamo evacuato il personale dell'edificio, ma May e Miles sono ancora dentro. Sto cercando di raggiungerli, ma il fuoco si provoca velocemente. Resta dove sei, MJ. Ci penso io. Dai, muoviti, Pete. Pete, fai presto. Peter, i soccorsi stanno arrivando, ma ho trovato un'uscita antincendio che dovrebbe... MJ, non ti muovere. Non voglio dover salvare anche te. Peter, non fare l'eroe. Aspetta! May! May! Aiuto! Siamo qui! Ok, coraggio. Resisti! Sì, May, stai bene? Versa la finestra! È lontana! Resistete! Ok, reggetevi forte! Andiamo, stupida di una... Coraggio, May! Ti aiuto! Oh, mio Dio! Via! 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 Miles! Andiamo! No! 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 Ti teniamo! Ti teniamo noi! Mi sta bene! Stanno tutti bene. MJ, non fosse stato per te, Miles. Penso che sarei... Morto. Esattamente come lo sarei io se non mi avessi salvato qualche migliaio di volte. Resto comunque in debito. Sei in gamba! Ehi. Scusa se ho rovinato tutto. Solo... È difficile essere sempre la donzella in pericolo. Per una volta volevo essere io a salvare qualcuno. Perdonami se ti ho sminuita. Ancora partner? Sempre. Ehi, non sapevo se la preferisci frizzante, liscia, disorgente o di montagna. Così le ho prese tutte. Vi ho interrotti? No. MJ, la signorina Watson e io parlavamo di strategia. Strategia? Esatto. La città è in pericolo, serve il nostro aiuto. L'aiuto di tutti. Ok, attendo ordini, coach. Ok. Divide e ti impera. Signorina Watson, serve un antidoto per il respiro del diavolo. La Oscorp sta lavorando alla formula, ma non possono proteggerla da Octavius e Martin Lee. Dobbiamo trovare la cura e proteggerla. Cercherò qualche indizio. Miles, devi essere i miei occhi e le mie orecchie al fist. Al minimo problema, chiamami. Dobbiamo proteggere i rifugi e i loro ospiti. Certo, conta su di me. Tu invece? Dei pazzi in calzamaglia stanno smontando la città pezzo per pezzo. Io farò lo stesso con loro. D'accordo. D'accordo. Aspetta! Come posso contattarti? Sì, insomma, hai un telefono nel... Nelle tasche o qualcosa del genere? Chiedi alla signorina Watson. Buona fortuna, squadra. Hai il suo... Sei la ragazza di Spider-Man? Sarebbe fortissimo se... Coraggio, Sherlock. Vediamo cos'hai in questo bouquet di bottiglie. La situazione in città è lievemente migliorata. Miles si sta occupando del fist. MJ è sulle tracce di una cura per il respiro del diavolo. Ora devo concentrarmi su Otto per fermare i suoi piani. Yuri, dobbiamo occuparci dei pesci grossi. Hai novità su Octavius? Nessuna. La scientifica non può nemmeno esaminare Times Square. Al dipartimento tirocinante escluso sono tutti malati. Vado a vedere io allora. Ti dico cosa scopro.